ok ragazzi ecco qui il vostro diablotex sempre bello spumeggiante che arriva qui per farvi un unboxing di un certo livello è veramente di un certo livello oggi sto parlando del singolo di federico fiumano e piero perù buchi nell'acqua ragazzi questo qui edizione limitata e guardate anche dietro l'ho preso perché ragazzi sono fan di piero tutti lo sapete ma passiamo subito l'unboxing perché qui veramente ci sarà da divertirsi ora ma veramente a divertirsi anche perché oggi sono carico ragazzi sono giorni che sto sugli giri ma bestia cioè veramente via sto alla grande solamente la grande vai allora tiriamo fuori qui dalla iea perché qui ragazzi adesso voi non sapete cosa contiene ma ve lo faccio vedere io ecco qui vedete che un po grande no e beh e beh giustamente guardate qui la foto di piero quando era giovane poi c'è gigore insulli giustamente federico fiumano e tutto il resto passiamo subito a vedere cosa c'è dentro ragazzi tiriamo ma vabbè ragazzi ma che dire ma che di vabbè allora innanzitutto qui c'è sia buchi nell'acqua che amsterdam allora buchi nell'acqua è un singolo nuovo è di federico fiumano e piero perù ma alla grande ragazzi ma veramente alla grande perché un rock anni 80 capito quindi poi vi metterò anche il link sotto in descrizione del video così andrete a sentire che roba e cerchiamo di sostenerlo questo singolo ragazzi perché hanno dichiarato piero e fiumani che se venderanno faranno un cd insieme quindi un album intero di loro due due mostri sacrosanti del rock italiano quindi andiamo subito allora qui c'è vedete il testo di buchi nell'acqua che il singolo di fiumani e perù più amsterdam che è un pezzo vecchio anni 80 e va bene e poi qui ragazzi ecco mentre stavano registrando in sala prove quindi guardate che bello guardare che bello ragazzacci guardate qui e fa parte del video queste immagini qui ragazzi lo faccio ancora ve lo avvicino perché è veramente da vedere ok vediamo cosa c'è dentro ragazzi voi non vi aspettate qui cosa c'è qui dentro è a me piace ragazzi già sto io sto tremendo cioè ecco io lo butto la piero oggi non voglio sapere nulla vediamo un po che bello che bello ragazzi che bello che bello bene devo aggiungere altro non aggiungo più altro il vinile ragazzi il vinile di buchi nell'acqua la tua buchi nell'acqua vedete lato b amsterdam ragazzi fantastico solo che adesso qui o non ho capito una cosa bene io non so ma non credo perché qui deve contenere cd più vinile ma io ho visto solo il vinile qui ora e cd dov'è ah ragazzi era sfuggito tadan ecco qua del singolo e sia cd che vinile e ragazzi è una cosa veramente fantastica ma il pezzo è assurdo ragazzi il pezzo è assurdo eccolo qua bello ops fiumani peru ragazzi buchi nell'acqua un gran pezzo rock ma rock anni 80 fatto bene quindi vi faccio rivedere tutto quello che c'è nella confezione io direi di prenderlo ragazzi voi fate voi come vi pare ecco c'è sia il vinile ecco qua c'è sia il vinile che il cd ragazzi ops lo rigiro tac vinile e cd nella stessa confezione e dove si vede un più queste cose ragazzi eh dove si vede più vabbè dai grande fiumani e peru che li ringrazio tutti e due perché siete due mostri del rock italiano veramente la grande quindi poi lo sono poco fan di piero pelu giusto ragazzi ok allora detto questo l'unboxing è fatto del di buchi nell'acqua detto questo vi ricordo ragazzi che questa notte ci sarà la prima live di diablo tex un hangout seguiremo la conferenza della sony insieme la prima volta che faccio un hangout live e partiremo alle due e mezza ma se mi gira partiremo anche alle due e venti dai dai cavolo perché io sono imprevedibile ragazzi posso partire anche un po prima e vi aspetto tutti sul mio canale seguiamo la conferenza sony insieme la conferenza dovrebbe iniziare alle tre come sempre sony e alle tre di questa notte e poi farà il classico ritardo di quei dieci minuti sicuramente quindi andranno sui tre dieci e andremo avanti ragazzi fino alla fine credo che finirà verso le cinque come sempre cinque del mattino vi aspetto numerosi ragazzi perché faremo casino questa sera perché sono bello carico ok perfetto detto questo adesso ci tengo a fare una cosa di cuore devo salutare una ragazza che conosco si chiama giulia perché condivide la mia stessa passione gli piacciono i litri banca a lei rocchettara quindi ci tengo a salutarla e ciao giulia un salutone da diabotex ma chiamami pure cristian e un bacio per te perfetto ciao ancora giulia e ragazzi vi aspetto questa notte nella live vi aspetto nella live sul mio canale perché dobbiamo fare casino ciao ragazzacci ciao a tutti yeah